Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi, oggi volevo fare un video un po' pazzo Oggi farò, provo, per la prima volta su Youtube Grand Theft Auto Vice City, sì come avete capito Oggi infatti giocherò a GTA San Andreas Comunque, anche se non lo vedete è GTA San Andreas Ve lo assicuro E' a, allora, apriamo qui, GTA Vice City Anche se non si vede comunque è quello Quindi ragazzi, oggi faremo 5 minuti, video di 10 minuti Quindi faremo 5 minuti San Andreas, GTA San Andreas E 5 minuti GTA Vice City Poi vi spiegherò in breve GTA Vice City Dando noi usciamo dalla casa di il nostro amico O mai protagonista quasi di questo canale Lo sto facendo diventare protagonista Carl Johnson Grazie Carl Johnson, proprio ti voglio bene Il nostro protagonista di questo canale Che è quasi diventato il protagonista E' Carl Johnson, non lo dico niente Teniamo una macchina, una macchinina Tipo questa qua è molto bella E per 5 minuti andremo a fare danni Girare a caso E per 5 minuti andremo a girare a caso Per la mappa di Los Santos Si perché qua è Los Santos Va bene il sapere Già siamo ragazzi sospettati Abbiamo una stella di polizia Tanto per cambiare Abbiamo una stella di polizia Ok Andiamo Ragazzi andiamo Benissimo Ma c'è qualcuno in macchina con noi? No ragazzi C'è qualcuno in macchina con noi? A chi lo devo dire? C'è qualcuno in macchina con noi? Ragazzi guardate Ma sto scherzando C'è qualcuno in macchina con noi? Vedete? Chi è questo? Nando noi accortelliamolo Ok? Benissimo Sai com'è? Ci leviamo l'ospizio Tanto tutti ce l'abbiamo Oh tutti quanti abbiamo Sta fissazione di accortellare C'è pure il mio cugino Mamma mia Una femmina con la pistola Ok Mi sa che questo gioco è un po' pazzo Perché ci sono pure le femmine con le pistole Ok Chi lo risponde? Ehi Ehi Come ti permette a spararmi? Ecco Come ti permette a spararmi? Oggi andiamo a fare così Per 5 minuti Andiamo a fare la distruzione E a fare un pochettino così Distruggere Ecco Mamma mia mi stanno sparando Meglio andare Meglio andare perché mi stanno distruggendo Ehi tu Fermati Amico Devi fermarti C'è la polizia Quindi dobbiamo scappare Ragazzi dobbiamo andare Dobbiamo scappare Prendiamo un pochettino di stamina Perché veramente ci stanno distruggendo la vita I polizi I poliziotti Andiamo via Mamma mia Addirittura pure con la moto Vengono Ma sono impazzisti qua Che sta succedendo? Mi stanno sparando ancora Ragazzi non dobbiamo scappare Ancora mi sparano Ma mi stanno distruggendo Ma mi stanno distruggendo Mi stanno fissilando Aiuto ragazzi Aiutatemi Benissimo ragazzi Dovremo andare via Dovremo andare via Aiuto 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 Potrei chiedere un po' di aiuti Per favore Qua ci abbiamo qualche Vabbè Oh no Arrestato Mi hanno arrestato Ragazzi Mi hanno arrestato Ragazzi Ci siamo? Ok siamo a 50 Ok Siamo qui Mi hanno arrestato Adesso appena torno al personaggio Giocheremo subito 5 minuti A GTA Vice City Com'è? Ci sta più ore? Dai C'ho fretta Ok Sto aspettando che carica Ma in più finiamo Qua come potete vedere Ci sono le istruzioni Ci stanno dicendo Cosa dobbiamo fare Quando siamo arrestati Ma io questo già lo so Ok Benissimo ragazzi E Con il primo video Di nostro caro Carl Johnson CJ Qui Ogni volta a fare Inquadratura su di lui E Fatta Lì adesso ragazzi Ragazzi usciamo Ragazzi usciamo il gioco Bellissimo Ok Vedete Abbiamo GTA San Andreas Ecco qui Mettiamolo nella custodia La sua custodia E Cominciamo A prendere Tra le mani GTA Vice City Ragazzi Tra l'altro Spendo pure la Playstation Sono un deficiente Vabbè Ma questo è normale Ecco qua ragazzi Non lo vedete Ma GTA Vice City Come sapete Della versione Quella là Argentata Platinum Ecco Devo Sintrare Il punto Ecco Iniziamo subito Prendere Ecco qui Ragazzi Vi consiglio Una cosa Se volete vedere Come si chiama Come è l'intro Di GTA Vice City Vi consiglio Di vedere Un mio video Vi consiglio Di vedere Un video Che poi uscirà Più avanti Che si chiamerà Gioco Per la prima volta Su PS2 A GTA Vice City In cui vi farò vedere L'intro E tutto quanto Non lo faccio adesso Perché Per giocare Abbiamo soltanto 5 minuti Quindi Siamo a 7 minuti Dobbiamo arrivare A 10 minuti E poi Staccherò il video Quindi ragazzi Direi che Magari Vi farò vedere Come ho fatto Con San Andreas L'intro iniziale San Andreas E la musichetta Quella là Carina Mentre La musichetta Di Vice City È un'altra Siccome abbiamo Solo 5 minuti Per fare Video su GTA Vice City Quindi non la faccio vedere Anzi Stacco il caricamento Ragazzi Ecco qua Ci siamo Siamo su GTA Vice City Ecco qua Con il nostro Personaggio Molto Bello Bello C'è una musica Molto bella Non mi ricordo Come si chiama Il personaggio Non mi ricordo Come si chiama Il personaggio Di GTA Vice City Ma questo gioco Ha avuto un sacco Di successo Molto successo Poi ci farò Tanti video Riguardo Su questo gioco Ovvio 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 Fermiamo Una macchina Ehi dove vai Io ti devo rubare La macchina Amico Pure questo gioco Molto amato Dai fan Di GTA Poi non so Poi non so Come levare La musica Andiamo Andiamo via Ho distrutto Delle macchine Delle macchine Vicino a me Via Quando ci diamo Persona A casa Lì abbiamo Una stella Di polizia Come prima Con GTA Sono Andreas Sembra Burro Chiamati Come GTA Sono Andreas Abbiamo Una stella Di polizia Ecco Qua ci abbiamo La mappa Vedete Ci abbiamo Una stella Di polizia Proprio come GTA Sono Andreas E proprio Cosa Oggi Dobbiamo Andare La polizia Bellissimo Io spero Che si vede Bene E che se no Veramente Ragazzi Ecco qua È scattato 10 minuti Quindi Vi faccio vedere Il personaggio Poi stacco Perché già Sono passati 10 minuti Ragazzi Ok Sono molto Preciso In queste cose Ecco qua Il personaggio Come potete vedere Si chiama Mi sembra Vercetti Qualcosa del genere Comunque Il cognome È il vercetti Di questo personaggio Ne sono sicuro È il personaggio Protagonista Di GTA Vice City Ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Anche se è durato 10 minuti Ma vabbè E da Max Si chiamerò Ufficiale Da GTA Vice City GTA Sono adesso Che non troverò mai Ce l'ho pure salvato Così Ecco qui Da questi due GTA Per oggi È tutto Wow Wow Wow